A proposito dell'onorevole Papa, lei replica tutto quello che ha detto Travaglio, voglio solo introdurre la notizia che oggi Bossi ha detto che molto probabilmente la Lega voterà a favore dell'arresto dell'onorevole Papa. Io non mi permetterei mai dire che il magistrato che ha emesso l'ordine di custodia cautelare nei confronti dell'onorevole Margiotta è matto o quello che ha detto prima il dottor Travaglio, io guardo i dati di fatto e sui dati di fatto che si costruiscono i processi e le risposte ai processi. Io faccio l'avvocato, ho difeso centinaia, migliaia di volte persone, cittadini comuni che secondo me erano ingiustamente accusati e che poi sono stati assolti. Noi abbiamo un dovere in giunta per le autorizzazioni e lo ha poi il Parlamento tutto, quello di vagliare gli atti processuali per vedere se in determinati casi ci sia stato o non ci sia stato un eccesso. In queste situazioni che noi abbiamo valutato, e io posso rispondere da quando sono in giunta, sono assolutamente sereno nel dire che secondo me gli eccessi c'erano. Per quanto riguarda l'onorevole Papa, noi valuteremo la situazione, la valuteremo con molta attenzione. Se, come a me sembra, ci sarà la convinzione di un eccesso nei confronti del parlamentare, o per dirla in altre parole, se questo ordine di custodia cautelare non sarebbe mai stato emesso per quel tipo di reati se l'imputato non fosse stato un parlamentare, voteremo no. Altrimenti si voterà, sì, lo deciderà sovranamente. Insomma, i reputati un po' perseguitati. Senta, onorevole Paniz, a questo proposito le vorrei chiedere una cosa a proposito del ministro Rotondi, perché ieri ha ammonito Tremonti a non vessare troppo voi parlamentari, tagliando stipendi, auto blu, eccetera, eccetera. E dimezzandone anche il numero, magari. Oggi ha aggiunto il ministro Rotondi che i parlamentari non navigano nell'oro e che con questo andazzo saranno ridotti a veri proletari. Lei come se la cava? Allora, io ieri, quando sono stato richiesto di commentare questa stessa frase, sono uscito con una battuta, dicendo non potrei mai andare contro il ministro Tremonti che viene in vacanza nella mia provincia di Belluno. Non si figuri se di fronte a un turista e lì me la sono cavata con riferimento alla mia terra. No, al di là di questo io ritengo che faccia bene il ministro Tremonti a intervenire per una rivisitazione di tutta una serie di spese che ci sono nel settore pubblico, anche che possono riguardare i parlamentari. Non mi sottrago a questa valutazione. Credo che il ministro Rotondi volesse chiedere al ministro Tremonti una maggior partecipazione di tutte le componenti, anche della componente parlamentare, all'assunzione delle decisioni, che secondo me sono assolutamente corrette e che possono portare a dei risultati. Non bisogna lavorare né col populismo né con l'eccesso dall'altra parte, ma con molti equilibri. In un momento nel quale il Paese ha bisogno di interventi è giusto che anche noi diamo il nostro esempio. Marco Travaglio, dovendo votare i parlamentari sui loro medesimi, quindi anche sui loro stipendi, eccetera, eccetera, e altri eventuali, quello che molti definiscono privilegi e benefit, secondo te questi tagli alla politica verranno fatti mai? No. Lei sa che li abbiamo già fatti tre volte? Non verranno fatti, erano finti però. No, no, finti, la busta paga aveva una decurtazione, non erano per niente finti, erano veri. Di quanto a che percentuale ammoltavano? 5% per tre volte dal 2001 in poi. Nel frattempo forse scattavano delle indicizzazioni che li annullavano? No, per la verità no, questa è una valutazione molto personale. Le spese di Camera e Senato sono praticamente inalterate dalla notte dei tempi, quando uscì il libro di Stella Rizzo sulla casta si promisero tagli draconiani, non abbiamo visto nulla del genere, anzi abbiamo visto che le spese della Presidenza del Consiglio, peraltro totalmente fuori controllo addirittura da parte della Corte dei Conti, sono esplose. Tremonti ha dovuto arrendersi perché non è riuscito nemmeno lui a metterci le mani, i voli di Stato che Prodi aveva ridotto si sono moltiplicati, per cui vediamo gente che va alla partita con i voli di Stato. Bene, di fronte a un governo che annuncia sacrifici, lacrime e sangue, peraltro a babbo morto, facendoli scattare quando questo governo non ci sarà più, cioè al 2013, il minimo che ci si dovrebbe attendere è che comincino a tagliare sulla propria carne. Bene, invece continuiamo ad avere la classe politica più pagata d'Europa, credo che i nostri parlamentari prendano il doppio di quelli inglesi e ci sono paesi dove addirittura i parlamentari prendono un terzo dei nostri. Io non credo che sia demagogico, non dico allinearsi ai più bassi, ma nemmeno restare il record man d'Europa, anche perché non mi pare che siamo un paese che ha nulla da scialare e abbiamo più di 500.000 persone che vivono di politica, cioè è una specie di termitaio, una specie di invasione delle cavallette. Siamo proprio in chiusura, non abbiamo toccato il tema delle intercettazioni telefoniche, secondo lei da 1 a 10 quante possibilità ci sono che nei prossimi mesi venga varata una norma che in qualche modo regolamenti o vieti la pubblicazione delle intercettazioni telefoniche? Per la mia convinzione personale direi 10, per la mia convinzione personale, poi lei sa benissimo che una norma dipende da un consenso che si raggiunge. L'arresto, l'arresto, il carcere vero ha utilizzato questa formula per i giornalisti che le pubblicano. Io ho detto proprio questo, ho detto che il giornalista che pubblica un atto riservato, cioè segreto, che non può essere pubblicato, deve essere sanzionato. Il giornalista serio, quello che... Col carcere. Certo, col carcere. Il giornalista serio non deve avere paura di questa norma perché sa che non compie degli illeciti. Ma le non fare paura non avere, no? Bravissima. Come si suol dire. Chi invece compie degli illeciti deve sapere che la pena c'è. Perché se non c'è una pena, la norma che vieta la pubblicazione è una norma che non vale nulla. Marco Travaglio, tu come giornalista saresti disposto ad accettare quali limiti sulla pubblicazione delle intercettazioni? Nessun limite ovviamente. Non c'è nessun limite che possa essere imposto alla libertà di stampa. Questi signori possono fare tutte le leggi che vogliono. Per fortuna si andranno ad infrangere tutte quante contro l'articolo 21 della Costituzione e soprattutto contro la Convenzione Europea per i diritti dell'uomo interpretando la quale la Corte di Strasburgo sta condannando gli stati che si permettono di processare e condannare giornalisti che pubblicano atti anche segreti. Ci sono sentenze ormai della Corte di Strasburgo che condanna la Francia per esempio per avere un tribunale francese condannato dei giornalisti che avevano pubblicato intercettazioni ancora coperte da segreto perché hanno detto che quando riguardano il potere anche la violazione del segreto istruttorio, in Francia ce l'hanno ancora, è legittima da parte del giornalista che è cane da guardia sul potere. Figuriamoci questa maggioranza e questa opposizione che prima con la legge Mastella e poi con la legge Alfano vogliono punirci con il carcere e con le multe, noi e gli editori, persino quando pubblichiamo atti non più coperti dal segreto. Figurati dove vanno a finire queste leggi. Sono leggi miserabili fatte da gente che evidentemente ha una paura terribile che vengano fuori i delitti orrendi che tenta di nascondere e che infatti ogni intercettazione nata per caso immediatamente squaderna. Il caso P4 come tutti gli altri casi che hanno creato grande scandalo nascono da indagini su tutt'altre vicende che immediatamente impattano con potenti che ne combinano di tutti i colori. In un paese così il problema è la macchina fotografica e non la faccia brutta di quello che viene fotografato, ma insomma l'hanno capito tutti, infatti questa è la ragione per cui... È molto comodo apprezzare i magistrati quando fanno certe cose e non rispettarne i limiti del loro lavoro. Infatti noi pubblichiamo roba... Il segreto istruttorio è previsto... Ma nel caso della P4 non sono stati pubblicati atti segreti. Tutti atti pubblici. Non è vero. Anche questo non è assolutamente vero. Tutti atti depositati all'indagato. Anche questo non è assolutamente... Ma sono atti depositati o no? Sì. Non tutti gli atti sono depositati, non tutti gli atti potevano essere pubblicati, non tutti gli atti erano stati depositati nel momento in cui sono stati pubblicati. Tant'è vero che qui, in questo studio, il procuratore Lepore, come lei ha sentito, ha accusato la Guardia di Finanza di aver fatto un certo tipo di lavoro di diffusione di notizie. Io credo che... No, 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 ma non era se ne... Non ai giornalisti, non ai giornalisti. Io credo che sia molto grave pubblicare, atti che sono segreti per legge. E mi meraviglio che anche un giornalista importante voglia eliminare il limite del segreto istruttore, perché è una garanzia dello stesso lavoro dei magistrati. È questo quello che vuoi fare, Travaglio? Il segreto istruttore è stato abolito nel 1989 quando è entrato in vigore il nuovo codice di procedura che lo ha sostituito con il segreto investigativo, che cessa... Ha cambiato nome. Che cessa... No. Prima copriva tutta l'istruttoria. Da quando c'è il segreto investigativo, il segreto cessa nel momento in cui l'atto viene notificato alla parte oppure depositato alle parti, che è il caso dominante di questi anni. Poi ci sono alcuni rarissimi casi in cui abbiamo pubblicato anche notizie segrete. Per esempio quella che pubblicò il giornale di Berlusconi, Trafassino e Consorte. Secondo me ha fatto benissimo il giornale di Berlusconi a pubblicarla, perché anche se era segreta e non conteneva reati, conteneva comunque informazioni molto importanti su un certo modo di fare politica e affari nel nostro paese. Io invece penso che la privacy debba essere rispettata. Dobbiamo chiudere, questa sarà un'altra partita. La privacy non c'entra con le banche. C'entrano tutte e due. No, no, adesso però devo davvero chiudere. Con molta serenità. Grazie onorevole Panis, grazie Marco Travaglio, grazie alle spettatrici e alle spettatori. E vi lascio adesso a un programma nuovo che si chiama Dottore in prima linea, che comincia stasera, ed è il primo programma di infotainment sulla medicina. Allora noi ci vediamo domani come sempre a otto e mezzo. Arrivederci. Grazie a tutti.